A volte nella vita dobbiamo imparare ad accettare anche ciò che non ci va bene, imparare ad accettare ciò che non dipende da noi, imparare ad accettare ciò che è successo, imparare ad accettare vuol dire prendere atto e lasciare andare. Ed è diverso dal tollerare. A volte le persone dicono io sono una persona molto tollerante, la tolleranza è una cosa buona, essere tollerante è una cosa buona, ma c'è un'enorme differenza fra tollerare e accettare. Nella tolleranza c'è stress, nella tolleranza ci vuole forza di volontà, quando tolleri qualcuno in realtà ok ti tollero ma se potessi lo cambieresti, quella cosa non ti va bene, lo giudichi negativamente, fai finta di niente, hai imparato a tollerare che è una cosa buona, dobbiamo tollerare anche i comportamenti o le modalità delle persone che ci stanno vicino, soprattutto nel mondo del lavoro, in famiglia, non siamo tutti uguali, non tutti fanno ciò che vorremmo. Ma come vedi nella tolleranza c'è un dover reprimere quello che vorrei dirti perché in realtà se fosse per me, però ho imparato a tollerare, butto giù, accettare è diverso, nell'accettare non c'è buttare giù, non c'è trattenere, non c'è resistenza, c'è la bellezza del lasciare andare, boh, è successo, lo accetto, ne prendo atto, lascio andare, non c'è più tensione, non c'è più negatività e vado avanti, libero, perché saper accettare veramente vuol dire in primis rendersi liberi.